A Parma Europa a primo piano, Roberto Ghiretti di Parma Unita lancia la sfida in vista delle prossime elezioni comunali. A Parma si voterà nel 2017 ma il cantiere dei moderati è già al lavoro. Un patto per Parma, questa la strada tracciata da Ghiretti nel segno del civismo e di programmi il più possibile condivisi per arrivare in tempi brevi ad una proposta alternativa al governo del Movimento 5 Stelle. Io credo che siamo di fronte a una necessità. Parma vuole risollevarsi, Parma si costruisce il suo futuro. Servono menti, servono volontà, servono persone serie che si spendano per la città. Io l'ho fatto a 60 anni, l'ho fatto volentieri. Non so se ho il fisico da uomo delle volate, quindi non lo so. ma credo che ci siano tante persone che come me, non perché abbiano passioni, pulsioni politiche o di carriera, siano pronte a spendersi per la città. Serve un patto chiaro con delle promesse chiare, non delle balle. Perché oltretutto il cittadino ha il diritto di sapere in tempi brevi se gli conti la verità o se non stai mantenendo quello che dici. Uno, un patto per la città, chiaro, semplice, quello che si può fare, non quello che non si può fare, quello che si può fare. Due, serva un ressemblement di persone. Non conta secondo me l'estrazione in quanto tale politica. La nazione la lasciamo alla nazione. Conta che ci siano persone che vogliano spendersi per la città, che abbiano competenza, possono essere anche giovani, anzi, competenza, serietà, onestà, un minimo di umiltà. Il contrario è quello che abbiamo visto in questi anni, non solo negli ultimi tre. E non da tutti, certamente. Credo che questo sia un qualche cosa che i PD, i movimenti civici, i vari partiti debbano considerare. Se invece diventa la spinta per le ambizioni di ognuno, io sono il primo, il sindaco deve essere l'allenatore, non è il presidente della squadra, è l'allenatore, è quello che fa giocare bene le varie eccellenze e le rende capaci di fare eccellere una squadra. Si vince così un campionato, se vogliamo parlare da sportivi. Io credo, se mettiamo di dietro le spalle le varie egoismi, le varie primazie, le varie vicissitudini di carriera, io credo che si possa fare un bel lavoro. Io mi impegnerò per questo, a costo serenamente anche di essere fuori, se questo sarà il meglio.